A trarre e trattenere in servizio le unità di personale assunto, sostenere gli uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione degli arretrati della giustizia civile e dare un riconoscimento agli uffici giudiziari che invece raggiungono specifici obiettivi annuali nella riduzione del numero dei casi pendenti. Questo è lo scenario prospettato questa mattina dal capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo in rappresentanza del ministro della giustizia Carlo Nordio che stamani è intervenuto a Salerno all'inaugurazione dell'anno giudiziario prendendo la parola dopo la presentazione della relazione dell'amministrazione della giustizia della presidente di corte d'appello Ornella Crespi nel corso della quale ha espresso una riflessione sul senso della giustizia proprio oggi quando si celebra la giornata della memoria per conservare il ricordo della massima ingiustizia e delle terribili persecuzioni subite dal popolo ebraico in un periodo oscuro della storia. Con la Commissione europea, dichiarato il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo, sarà compiuto uno sforzo integrativo con il raggiungimento di nuovi obiettivi e dentro il prossimo mese di marzo saranno definiti ulteriori interventi. Ha annunciato un rinforzo di circa 2000 agenti per la polizia penitenziaria. A fronte del riconoscimento di margini di maggiore flessibilità si è concordato con la Commissione europea di compiere uno sforzo integrativo per il raggiungimento dei nuovi obiettivi e per questo ci siamo impegnati a definire, entro il prossimo mese di marzo, ulteriori interventi in tre ambiti. Attrarre e trattenere in servizio le unità di personale assunte, sostenere gli uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione dell'arretrato della giustizia civile, dare un riconoscimento agli uffici giudiziari che raggiungono specifici obiettivi annuali di riduzione del numero di casi pendenti nel sistema di giustizia civile. Questo è lo scenario che abbiamo davanti, a cui dobbiamo guardare tutti con senso del dovere, morale e giuridico, come i doveri di leale collaborazione che caratterizzano l'agire delle istituzioni e gli obblighi di cooperazione che devono connotare l'azione delle parti nel processo a fini di giustizia. In questa fase di rinnovamento l'elemento più significativo potrà essere una nuova cultura che si può definire della conciliazione, perciò si punterà sulle varie forme di mediazione in ambito civile e sulla giustizia riparativa in ambito penale. E' anche una riflessione sul senso profondo della giustizia, a cui non ci si può sottrarre. Proprio oggi, cioè in una data in cui si celebra il giorno della memoria, istituito dalla legge 211 del 2000, per conservare il ricordo della massima ingiustizia e delle terribili persecuzioni subite dal popolo ebraico in un tragico e oscuro periodo della storia d'Italia e d'Europa. Segni di un approccio sempre antico e sempre nuovo, in cui si risponde al bisogno di sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo alla domanda di maggiori garanzie per chi è coinvolto in indagini penali, anche all'interno del sistema carcerario proseguirà l'impegno a attuare al meglio i principi costituzionali, cercando di favorire al massimo il lavoro per le persone private della libertà e al contempo di migliorare le condizioni complessive degli istituti penitenziari, in cui decine di migliaia di servitori dello Stato prestano ogni giorno il loro alto servizio. Nei prossimi mesi saranno assunti 236 nuovi educatori penitenziari che completeranno le piante organiche degli istituti. Tra aprile e giugno la Polizia Penitenziaria avrà grossi rinforzi per circa 2000 agenti. In ogni settore occorrono infatti strumenti innovativi sul piano normativo e operativo. Quest'anno, ad esempio, vedrà l'avvio il nuovo tribunale unico per la famiglia e le persone e all'altezza delle continue innovazioni tecnologiche. La cybersicurezza, ad esempio, rappresenta un'assoluta priorità contro vecchie e nuove forme di criminalità. E il contrasto al crimine organizzato, anche trasnazionale, sarà tra gli argomenti centrali nell'agenda G7, giustizia, in programma durante la presidenza italiana nel maggio prossimo a Venezia.